E' partita questa mattina la nuova campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole superiori al personale docente e non docente. Uno screening che era stato programmato per il ritorno in presenza il 22 febbraio come da ordinanza, anche se si fa strada la possibilità di una proroga a quanto pare. L'iniziativa proseguirà nella giornata di sabato in diverse sedi, la palestra del liceo scientifico, quella dell'Ipsia, Sar il Musb di Via Ficara e il drive-thru di Monticchio, che sarà a disposizione anche degli atleti delle società sportive. Tanti ragazzi e personale in fila nella palestra dello scientifico questa mattina e diversi medici in pensione che hanno deciso di mettersi a disposizione per effettuare i tamponi. La ginecologa Nora Concordia, il professor Sandro Francavilla e anche l'ex sindaco Massimo Cialente. Tra coloro che stanno facendo i test ai ragazzi c'è anche l'ex sindaco Massimo Cialente in qualità di medico, ci sono tanti ragazzi, è un buon segnale questo? Sì, è un buon segnale, sono qui con la dottoressa Concordia, il professor Francavilla e il dottore Fabrizio Pignatelli. Noi pensionati ci stiamo facendo giustamente volontari per fare questa cosa, così come se dovesse servire anche per le vacanze. Un segno positivo, vedo docenti, ragazzi con avvertenza. Questi test sono utilissimi come screening di massa, però sono gravati da una percentuale di falsi negativi, quindi diciamo così non è una patente di assoluta immunità, però servono già a fotografare per un 70-75% il rischio di positività. L'obiettivo in un momento in cui l'attenzione è alta anche per la comparsa di varianti è scattare una fotografia della situazione sanitaria, ma anche vedere gli effetti della zona gialla orma finita che c'è stata in Abruzzo sino a qualche tempo fa. Grazie.